Guarda che il capo può anche decidere di farti fare la pelle, sai? Non ti preoccupare. In tutti questi anni ho messo su un buon dossier di sull'organizzazione. Nomi, cognomi, date, cifre, morti ammazzate. Tu credi di essere furbo, eh? Meglio dire previdenti. Dentro questa organizzazione ti ce l'ho portato io e me ne fotto dei tuoi dossier. Guarda che tu non puoi uscire dal giro, eh? Ma io non mi hai detto che voglio uscire dal giro. Voglio soltanto il corrispettivo del rischio. Voglio, voglio. L'erba voglio. Topò! Che sorpresa! Scusate ragazzi, non voglio disturbare, eh? Sono venuto solo per darti questa. Tanti auguri. No. Non è possibile. Che bello! Quello! 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 Il colore non mi piace. Papà, quel motorino costa un sacco di soldi. Non preoccuparti, piuttosto casco è prudenza. Papà, sei mitico. Ma come facevi a sapere che mi piaceva rosso? E di quel tipo? È intuito, intuito paterno. Che questo è rosso per caso, eh? Eh, hai visto? Che coincidenza. Dai, andate a fare un giro, così lo provi. I giubbotti, andiamo a prendere i giubbotti. Sì, così prendo anche il casco. Quanta fredda. 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 Grazie.